Quest'anno presentiamo alcuni nuovi oggetti per Varaskin. Il lettino Emma Cross ha qualcosa di molto speciale. Ho pensato di fissare la corolla, che è caratteristica di questa collezione, alla parte che bascula. Quando tu sei sdraiato sul lettino sei comunque compreso in questo elemento. Quando lo schienale si alza sempre questa corolla ti appartiene e ti segue. Quindi è un effetto di intimità e di relazione con l'esterno molto diversa da un lettino tradizionale. Il nido Emma si è ispirato molto alla bergera, nel senso che la forma riprende la forma della bergera. Ma ha una parte superiore che fa come un tettino, che ti permette di rilassarti in questo bozzolo e avere uno spazio outdoor tutto per te. Il privacy panel sono dei pannelli molto lineari, con una base in cemento, che si possono spostare per creare una zona di protezione o per nascondere magari qualche parte del giardino o della terrazza che non è proprio perfetta. L'emma dei Bad Family è un oggetto speciale per la dimensione, molto molto grande, dove puoi accogliere tutta la famiglia, da qui il nome, oppure puoi rilassare comodamente e sdraiare quasi un enorme letto dove stare insieme e rilassarsi. Molto piacevole lavorare col team Baraskin, è molto dinamico, molto curioso, attento a qualsiasi mio input e insieme siamo riusciti a creare dei bellissimi prodotti.